È un'indagine conoscitiva che si appresta a fare la quinta commissione, la commissione salute e sanità, per conoscere in maniera reale e approfondita la situazione degli affidi nella nostra regione. Ringrazio inizialmente tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno votato in maniera unanime questa nostra proposta, proposta che viene dal partito di Fratelli d'Italia, una proposta che ha una genesi lontana perché il tutto è partito con una risoluzione votata già un anno fa, ma poi non si poteva dare corso a questa risoluzione perché stavamo trattando la vicenda di Bussi, quindi non possono esserci due indagini in contemporanea. Abbiamo aspettato la nomina del garante dell'infanzia che darà anche un motivo in più di importanza a questa vicenda perché è giusto che così come è accaduto a Reggio Emilia, con la vicenda tristemente famosa di Bibiano, anche qui noi vogliamo conoscere tutto quello che accade nel mondo degli affidi. Quindi in questa commissione, in questa indagine conoscitiva che non potrà durare oltre sei mesi e non avrà nessun carico finanziario per il Consiglio regionale, però vogliamo sapere un po' la storia degli affidi, quante ne sono, cosa accade durante la fase di monitoraggio, le persone che vengono coinvolte per quanto riguarda le ispezioni che vengono fatte ogni tot tempo e quindi vogliamo uscire alla fine di questi sei mesi con una relazione che descrive in maniera chiara, essenziale e diretta questa problematica. L'auspicio ovviamente è che le risultanze siano risultanze positive, ossia che non ci siano problemi particolari, però una Regione che vuole dare tanta importanza al sociale non può non fare un'indagine conoscitiva così come il gruppo di Fratelli d'Italia richiesto.